Allora, i microfoni... Pierre, spiegaci perché di questi microfoni! Vogliamo ottenere un suono, diciamo, più cristallino, più saturato, più definito della batteria, un'immagine, come dire, verosimile, non proprio rock, ma abbastanza, come posso dire... Col pugno! E questi qua sopra che avete messo nuovi? Allora, qui abbiamo una scelta di immagine della batteria, un microfono molto definito che simula i primi microfoni a valvolo dagli anni Sessanta e questo invece è un microfono orrendo, che darà un'immagine, diciamo, karaoke della batteria. Wow! Quindi in caso vogliamo una scelta di due mondi. Dei due mondi. Sempre con i due panoramici qua sopra. Sì, certo, nastro, giustamente, perché... Nastro. Eh, è meglio. Lo vogliamo ovunque, il nastro. Lo vogliamo ovunque.